numero 5 creata per le rider di livello intermedio che vogliono vivere nuove esperienze in parco in powder dando sempre il massimo una tavola flat rocker directional twin con medio flex 4 dispone di attacchi per soddisfare le molteplici esigenze di tutti i rider in campo free seal e free ride con 4 per 4 disco universale compatibile con tutti i sistemi in circolazione ottima finitura e rapporto qualità prezzo trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 4 la tavola barton clash è l'ideale per padroneggiare le basi dello snowboard e chiudere i tuoi primi trick il suo design abbina la sensibilità rilassata della tecnologia v rocker con la soletta convessa cruise control per il massimo divertimento senza la paura dei controspigoli la tavola snowboard barton clash con la sua morbidezza e flessibilità è l'ideale per chi è in cerca di divertimento con gli amici la tecnologia the channel offre il montaggio e la regolazione più personalizzabile possibile compatibile con qualunque attacco oltre a quelli di barton numero 3 tavola creata per le rider di livello intermedio che vogliono vivere nuove esperienze in park o in powder dando sempre il massimo una tavola directional twin zero camber profile con medio flex 4 a 5 dispone di attacchi per soddisfare le molteplici esigenze di tutti i rider in campo free sil free ride con 4x4 disco universale compatibile con tutti i sistemi in circolazione trovi il link amazon di questo prodotto in basso nella descrizione numero 2 se volete praticare uno stile freestyle o volete un po di qualità premium che si adatti al vostro budget e soprattutto volete progredire rapidamente date un'occhiata a questa tavola barton è stata progettata per diventare una delle tavole più progressiste del mercato non viene fornita di accessori ma è estremamente elegante e performante inoltre la sua curva piatta in alto la rende molto più confortevole rispetto alle altre tavole numero 1 la cinema con il suo shape twin direzionale ed il suo facile camber ibrido galwing è una perfetta soluzione all mountain sia per chi è alle prime armi che a chi invece mastica snowboard già da un po è l'ideale per chi cerca una tavola morbida facile e rilassata che sia in grado di affrontare pista park e qualche uscita in fresca park flex shape directional twin galwing rocker sono le sue caratteristiche principali che la rendono ottimale sia per chi cerca una facile tavola all mountain freestyle sia per chi sta muovendo i primi passi e sia per i rider intermedi che vogliono una tavola pronta a tutto non impegnativa ma capace di dare belle soddisfazioni e di far progredire senza stress in descrizione trovi il link su amazon di questo prodotto all'inizio all'inizio Grazie a tutti